Per la seconda volta a distanza di otto giorni l'ufficio Cassa e Verbali oggi pomeriggio chiuderà il pubblico, quindi le persone di Pescara che verranno a pagare la multa troveranno l'ufficio chiuso. Questa è una disfunzione che si ripete, sicuramente c'è una probabile disorganizzazione nell'organizzare i servizi, forse sono stati spostati degli operatori della Polizia Municipale presso altri servizi, ma questo significa lo stato di abbandono in cui versa il comando della Polizia Municipale di Pescara sotto il disinteresse dell'amministrazione Alessandrini. Qualche giorno fa abbiamo detto che questo edificio alle nostre spalle probabilmente presenta dei rischi, mancano dei collaudi, sino ad oggi non abbiamo avuto la risposta e ricordo che in questa sede si riunisce in caso di calamità il centro operativo comunale, quindi in un luogo non adatto. Ricordo che c'è un codice di comportamento che impone anche ai dirigenti di coordinare al meglio per il benessere dei suoi dipendenti. Quindi probabilmente l'amministrazione Alessandrini si disinteressa di questo problema e speriamo che il comandante vada lì a battere i pugni sul tavolo.